bravo bravo general manager bravo frank basilico bravo perché vedete nella vita di un pirata sono poche le cose che contano c'è l'alcol e io ne ho a galloni cazzo la ci sono le donne e quelle non mancano e c'è l'oro e anche di quello non è che sono scarso però manca l'unico vero oro che conta nella vita di un wrestler manca una cintura e il nostro buon general manager per nwr back in town il 28 aprile in rapallo ha indetto una battle royale per nome one contendership al titolo italiano e secondo voi il vostro barba di sale poter mancare non manca barba di sale piccolo batterio picco il titolo e poi oggi e backslash vengo a vendicare sicilia vengo a prendere anche voi il 28 aprile i end up in a back in town potevate chiamarlo nel nome di barba di sale perché sarei barba di sale ciao 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 ciao